Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre sempre in descrizione troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso, dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2021 Fast and Furious 9, The Fast Saga, noto anche come Fast and Furious 9, diretto da Justin Lin. La pellicola è il nono capitolo della saga Fast and Furious, sequel di Fast and Furious 8. Io devo dirvi che apprezzo questa saga perché riesce a divertirmi e a intrattenermi. Certo, posso capire chi non apprezza questa saga o per meglio dire anche e soprattutto l'evoluzione o il cambiamento, per essere ancora più precisi, dai primi agli ultimi capitoli perché si vede e si nota questa differenza, questa evoluzione per alcuni, involuzione per altri. Ma è una cosa che io personalmente parlando ho apprezzato perché serviva secondo me cambiare un po' le carte in tavola. Certo, arrivati a questo nono capitolo qualcuno potrebbe dire basta, ma io invece voglio dire che questo nono film, pur non avendomi convinto appieno, pur non ritenendolo il miglior capitolo della saga, è comunque un film che è riuscito a, per così dire, intrattenermi, è riuscito a coinvolgermi e non me l'aspettavo sinceramente perché partivo con aspettative bassissime, perché già dal trailer si vedeva e si capiva che questo nono capitolo sarebbe stato il più esagerato in assoluto di tutta la saga. E questa cosa ve la posso confermare anche dopo aver visto il film, infatti posso capire anche le critiche che fanno molti per quanto riguarda le leggi fisiche che in questo film non vengono minimamente rispettate, ma anche negli altri capitoli in certe scene sono state completamente ignorate. Infatti io guardo questi film a mente spenta, a cervello spento, perché altrimenti anch'io stroncherei da cima a fondo, soprattutto gli ultimi capitoli di questa saga. Però spendendo il cervello, secondo me, può essere apprezzato come film e devo dirvi che il film è riuscito anche a sorprendermi sotto certi punti di vista, perché vengono introdotte certe questioni che comunque, seppur un po' forzate a tratti, mi sono piaciute. Mi sono piaciute perché comunque aggiungono qualcosa di nuovo e ve ne parlerò meglio nella parte spoiler, perché sono delle scene che secondo me sono le migliori del film. Infatti i momenti in cui questo film si prende più sul serio sono dei momenti che mi ricordo molto bene e che mi hanno fatto anche emozionare, soprattutto in un caso di cui vi parlerò nella parte spoiler. Però anche i momenti in cui questa saga fa della sana, anzi della sanissima autoironia sull'esagerazione. Infatti questa saga è pienamente consapevole di esagerare e lo fa attraverso questa autoironia che ho apprezzato tantissimo, soprattutto grazie alle battute che dice Roman, uno dei miei personaggi preferiti della saga. Per meglio dire, il mio personaggio preferito della saga insieme a colui che purtroppo non c'è più, ovvero il personaggio interpretato da Paul Walker, ovvero Brian, erano, o per meglio dire, era lui insieme a Roman il mio preferito, ora è rimasto Roman diciamo nella la vetta dei personaggi che preferisco all'interno di questa saga, perché Roman è un personaggio divertentissimo, con una comicità e un'ironia che apprezzo particolarmente e film dopo film riescono ad affidargli delle battute sempre più divertenti. E' quel personaggio che è riuscito a non scendere mai di livello film dopo film, ma anzi è riuscito a superarsi sempre di più fino ad arrivare a essere il migliore in assoluto per quanto mi riguarda in questo nuovo film, un Roman che davvero è riuscito a superarsi, ve ne parlerò meglio nella parte spoiler, ed è proprio per questo che apprezzo questa saga, perché ripeto ancora una volta, è pienamente consapevole di esagerare, lo dice senza troppi problemi, senza filtri e quindi dice, noi siamo questo ormai, se vi piace bene, se non vi piace va bene lo stesso, perché è normale come ogni cosa che un determinato prodotto non piaccia a tutti, è normalissimo, ci sta, però il caso della saga di Fast and Furious è uno dei più eclatanti, perché mai come in questo caso, o per meglio dire quasi mai come in questo caso, ho visto una netta divisione fra chi ama questa saga e chi la odia, come se non esistesse la via di mezzo, io ci tengo sempre a ricordare, a ribadire che esista anche una via di mezzo, quindi sono di questo avviso, ecco. Però, ripeto, questo nono film è riuscito anche ad aggiungere qualcosa di nuovo sotto il punto di vista della storia, infatti la sceneggiatura, seppur non sempre coerente al 100%, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle leggi fisiche e l'esagerazione, è comunque una storia che mi è piaciuta, perché è riuscito a utilizzare anche il cast in maniera piuttosto azzeccata, perché è vero, il cast di Fast and Furious non è fra i migliori in assoluto, faccio l'esempio, o per meglio dire gli esempi di Vin Diesel e di John Cena che all'interno di questo film sono monoespressivi e questa cosa purtroppo si vede e si nota, per quanto riguarda Vin Diesel anche negli altri film diciamo che la situazione non migliora, però i personaggi riescono a compensare queste mancanze proprio sotto il punto di vista delle interpretazioni attoriali, quindi è un bene il fatto che i personaggi riescano a tenere a galla il tutto, dato che se ci si dovesse basare solo ed esclusivamente sulle interpretazioni attoriali, diciamo che il castello di sabbia per così dire crollerebbe in un attimo, però ci sono anche delle interpretazioni attoriali che ho apprezzato come ad esempio Charlize Theron e Ellen Mirren, che secondo me sono le due migliori interpretazioni attoriali presenti all'interno di questo film, quindi devo dire che è una saga che divide e dividerà sempre, l'ha sempre fatto e continuerà a farlo anche in futuro. Poi devo dirvi che ho apprezzato anche Michelle Rodriguez, non so perché, ma durante tutto il corso di questa saga, lei mi è sempre sembrata una delle più convincenti in questo ruolo da dura, da tosta, ci sta benissimo secondo me, sono molto curioso di sapere la vostra opinione, quindi è un film che, ripeto, dimenticherò molto probabilmente da qui a poco tempo, ma è comunque riuscito a intrattenermi, a farmi divertire come si deve, ripeto, a cervello spento, a mente spenta, perché altrimenti è impossibile valutare in maniera positiva questo film, questo purtroppo devo ammetterlo, dico purtroppo perché io sono comunque allegato e affezionato a questa saga, ho visto tutti i film dal primo all'ultimo, incluso lo spin-off Augustine Show, ed è una saga che comunque porto nel mio cuore tutt'ora, tutt'oggi, quindi è una saga che ovviamente ha avuto degli alti e bassi, ma con questo non ho capitolo è riuscita a sorprendermi in minima parte in positivo, perché mi aspettavo di peggio, e invece questa saga con questo non ho capitolo è riuscita a introdurre qualcosa di nuovo, certo ci sono alcune cose forzate di cui non voglio parlarvi in questa parte non spoiler, ma lo farò sicuramente nella parte spoiler, alcune cose che non mi sono proprio andate giù, mentre altre le ho proprio apprezzate anche perché risultano in un certo senso un minimo coerenti con l'evoluzione di tutta la storia, e sono molto curioso di capire come proseguirà il tutto, sperando che il decimo capitolo non sia scialbo né noioso, quindi spero solo questo, ed è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film. Tre stelle e mezzo su cinque, per qualcuno sarà un voto esagerato, lo capisco benissimo, ma a me è proprio piaciuto, quindi è un gusto puramente personale e soggettivo, un film che seppur non eccelle particolarmente in qualche aspetto, come ad esempio la regia, che non ho trovato particolarmente, per così dire, ottima, l'ho trovata sì una buona regia, ma che non raggiunge i livelli della regia del settimo capitolo, tanto per farvi un esempio anche i livelli di regia del quinto capitolo, perché per me il quinto e il settimo sono i due migliori film di tutta la saga, però è comunque una regia che si difende abbastanza bene anche nelle scene action, riesce a intrattenere molto bene, il tutto non mi è sembrato confusionario, quindi questo è sicuramente un punto a favore, un punto positivo. Per il resto, ripeto, è un film che vi consiglio di vedere senza aspettarvi chissà che, provate a godervi ciò che vedete e spero che il tutto possa piacervi almeno in minima parte, come è successo con me. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, per non perdervi i miei prossimi video, inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che non uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi delle scene che mi sono piaciute di più, ma anche delle scene che ho trovato più forzate rispetto ad altre. Vorrei partire da queste ultime, perché è un discorso che secondo me va fatto. Primo punto, la questione del ritorno di Anne. Mi ha fatto piacere vederlo tornare, ma non mi è piaciuta la spiegazione che viene data al suo ritorno. C'è una spiegazione che secondo me, ma è un po' troppo tirata per i capelli, possiamo togliere anche un po', c'è proprio tirata per i capelli in una maniera incredibile. Potevano trovare qualcosa di decisamente migliore come scusa, però il fatto di questa specie di illusione che in realtà sembrava morto quando non lo è affatto, ma non mi è andata particolarmente giù questa cosa. Però sotto un altro punto di vista ho apprezzato tantissimo la scena in cui Anne riabbraccia praticamente tutta la squadra, soprattutto l'abbraccio fra Anne e Dom. Mi ha particolarmente emozionato perché il legame fra i due durante tutto il corso della saga c'è stato, è come se c'è stato e questa reunion, per così dire, mi è piaciuta particolarmente. Questa è sicuramente una delle migliori scene del film. Poi altre scene del film che mi sono piaciute davvero tanto sono quelle dove vediamo il passato di Dom attraverso dei flashback che ho apprezzato perché ci fanno capire il concetto di famiglia importantissimo per Dom che gli è stato trasmesso dal padre che vediamo attraverso questi flashback, vediamo anche la morte del padre e il motivo per cui è morto, quindi la causa scopriamo che è proprio il fratello di Dom interpretato da John Cena che quindi si farà vedere in questo film e ci sarà questa rivalità fratello contro fratello. Poi scopriremo anche che in realtà le motivazioni della morte del padre di Dom sono legate a una volontà che è propria del padre di Dom che ha chiesto al fratello di Dom di diciamo fare quella cosa proprio perché il padre voleva perdere quella gara anche per una questione di debiti e tutto quanto e diciamo che questa cosa mi è piaciuta come è stata fatta, mi è piaciuto l'approfondimento attraverso questi flashback del personaggio interpretato da Vin Diesel ovvero Dominic Toretto però devo dirvi che il modo in cui è stato introdotto il personaggio interpretato da John Cena quindi il fratello di Dom anche in questo caso l'ho trovato un po' forzato, meno del ritorno di Han ma comunque il tutto poteva essere fatto in maniera decisamente migliore perché comunque si vede e si nota che il personaggio interpretato da John Cena è stato inserito in corso d'opera e non era stato pensato dall'inizio perché il fatto che comunque Dom non lo citasse minimamente ci potrebbe anche stare perché comunque per lui è come se non esistesse suo fratello ma comunque proprio non c'è la minima citazione la minima menzione di questo personaggio nel corso degli altri capitoli proprio così sbuca fuori all'improvviso ed è una cosa che posso capire ma che secondo me poteva essere resa leggermente meglio per renderla un minimo più coerente con tutto il racconto non solo di questo non ho capito ma di tutta la saga. Comunque non mi ha dato particolarmente fastidio questa cosa. Ho apprezzato il ritorno di Mia Toretto la sorella di Dom perché torna proprio perché si tratta di una questione familiare quindi si tratta del fratello sia di Dom che di Mia e quindi ci sta il ritorno di Mia Toretto. Ho apprezzato quindi anche questa cosa e ho apprezzato pure le varie scene action certo ce ne sono alcune davvero esagerate in una maniera incredibile come ad esempio Dom che fa il Tarzan della situazione con la macchina con la corda con la fune cioè lì davvero leggi fisiche completamente dimenticate però devo dirvi che ho apprezzato tantissimo come ho già detto nella parte no spoiler le battute che fa Roman. Roman per me è un grandissimo personaggio c'è poco da fare cioè se tolgono lui per me la saga perde almeno l'ottanta per cento del valore perché in questo non capitolo Roman è praticamente quello spettatore che si fa mille domande siamo noi che diciamo ma come fanno questi a non farsi nulla a uscire indenni senza ness senza nemmeno un graffio cioè come fanno sono invincibili sono esseri umani o sono supereroi e le varie scene in cui Roman dice queste cose mi hanno fatto letteralmente morire dalle risate ed è qui che io ho capito che la saga è pienamente consapevole di esagerare lo fa volontariamente pur non piacendo a tutti ma comunque lo fa porta avanti questa cosa ed è una cosa che sotto un certo punto di vista io apprezzo perché comunque fa autoironia su questa cosa lo fa continuamente anche la parte in cui vanno nello spazio cioè che tutti dicevano in continuazione ora ci manca solo che questi vadano nello spazio e ci sono andati davvero e quella secondo me è stata un'altra scena inserita apposta proprio per andare oltre la semplice esagerazione cioè quasi va proprio oltre e qui pure c'è Roman che dice siamo nello spazio cioè ci stiamo rendendo conto è praticamente quello spettatore come ho detto prima che si fa mille domande a cui non può rispondere perché sa di non poter rispondere davvero questa è la bellezza di questo personaggio Roman per me top personaggio di questo non ho capito ma proprio a mani non basse ma bassissime perché è davvero eccezionale e geniale c'è poco altro da dire su questo personaggio per il resto ho apprezzato anche il confronto fratello contro fratello poi mi aspettavo che il personaggio interpretato da John Cena passasse per così dire dalla parte del bene anche se ovviamente dovrà redimersi io penso che comparirà anche in altri capitoli vedremo ma ne sono convinto e sicuro di questa cosa per una cosa che non mi è piaciuta è la poca presenza di Charlize Theron all'interno di questo film perché nell'ottavo capitolo era una delle cose migliori grazie anche soprattutto alla sua bravura e in questo nono capitolo compare poco ma quelle poche volte in cui compare ruba letteralmente la scena a tutti gli altri stesso discorso per quanto riguarda le Mirren altra bravissima e grandissima attrice quindi è un film che ripeto ha dei pregi ma anche dei difetti e di questa cosa ne sono pienamente consapevole proprio come la saga stessa è consapevole di tutto ciò davvero ho apprezzato anche il finale in cui c'è il ritorno a mio parere davvero molto simbolico di Paul Walker che si che si unisce alla tavola per così dire questo ritorno simbolico di Paul Walker mi è piaciuto tantissimo perché vediamo quella macchina blu arrivare che c'è appunto Dom che dice c'è ancora un posto a tavola diceva una cosa del genere se non ricordo male e subito dopo vediamo questa macchina blu arrivare in quel posto e fine del film mi è piaciuta moltissimo questa cosa così come ho apprezzato anche la scena post credit che mi è piaciuta è piaciuta tantissimo in cui vediamo Jason Statham che sta si sta allenando con un povero malcapitato e interrompe questo allenamento perché qualcuno bussa qualcuno bussa e poi qualcuno è Ann e questa è una delle cose che volevo vedere che sono curiosissimo di vedere eventualmente nel prossimo film il confronto fra Ann e il personaggio interpretato da Jason Statham quindi show ed è davvero una cosa interessante perché è stato proprio show a provocare a causare l'incidente dell'apparente morte di Ann e sono curiosissimo di vedere come verrà portato avanti il tutto questo confronto questa rivalità per così dire la trovo davvero molto interessante sarà uno degli aspetti fondamentali del prossimo film di questo ne sono pienamente convinto e spero che il tutto venga sfruttato bene perché in questo non ho capito è vero che ci sono dei difetti ma comunque ci sono anche dei pregi sotto il punto di vista della coerenza in certi casi della storia mentre in altri ci sono alcune cose che secondo me potevano essere sfruttate, gestite, costruite e sviluppate in maniera decisamente migliore ma comunque ripeto è un nono capitolo che non è fra i miei preferiti della saga ma comunque riuscite a sorprendermi in minima parte in positivo quindi detto tutto ciò io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima ciao